Benvenuti al meteo di Telenuova, domani è giovedì 22 dicembre. Alta pressione, rinforzo e tempo generalmente stabile, anche ampiamente soleggiato sulle regioni peninsulari, salvo più nubi al sud. Rimangono locali piogge su est Sardegna e centro-est Sicilia, ma a carattere debole ed in miglioramento. Alta pressione dominante su tutte le regioni, con bel tempo soleggiato e stabile pressoché ovunque, salvo le consuete nebbie diffuse sulle pianure specie centro-orientali. In Campania la pressione atmosferica scirlerà intorno ai 1027 millibar grazie alla presenza dell'anticiclone continentale che sarà centrato sull'Europa. Il cielo sarà poco nuvoloso o sereno, salvo qualche addensamento più probabile sui monti. Temperatura stazionaria, venti deboli da est con locali rinforzi, mare poco mosso.